intanto mi sono salvato in un modo incredibile poi adesso ne riparliamo incredibile l'ho ucciso quasi un altro chilo fatto tanto siamo uno contro uno prima o poi dovrei morire no i got nightmares in my head i fear that the thoughts build up until i can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper anxiety filling up every space no privacy and silently it could build and build until you finally see whoa it's taking over damn no closure moving closer no exposure i just want to be a loner some can't stay sober looking over all their shoulders like moving boulders just to get out of the home it sucks i've had enough i don't want to feel the stuck under the rug all my problems ok 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 più dieci coppe andiamo a giocare ancora e facciamo altri più dieci cominciamo a distruggere casse dalla distanza finché non viene la scegli del cazzo e mi ruba il power porca di quella troia porca si sparami da lontano che ti troverai sicuramente bene alla fine che hai fatto questa qua che ti meriti porca uuuuuh l'ho uccisa incredibile ce l'ho fatta si vieni qua vieni vieni qua coglione altro coglione che ha fatto la fine che si meritava adesso vediamo quanti altri coglioni ci saranno qua uno due eeeh fottuto nooo dai che l'ho fatto ok due su due 20 coppe 21 perché c'è la serie di vittoria allora vorrei riplicare queste due partite che ho fatto così da fare più 30 in tre partite meno male che ha spiegato il potenziamento meno male uuuuh l'ho ucciso ok posso sfruttare il mio potenziamento adesso cazzo 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 non c'entriamo d'accordo così ok ok distruggiamo sto coso di merda oh 3 su 3 incredibile un'altra voglio vincere la 4 su 4 più 40 coppe in una partita mi sembra impossibile anche se sono di più di 40 perché già siamo a 33 1 2 3 porca troia non bastano mai ci vuole sempre il quarto l'ho preso l'ho preso ancora oh l'ho ucciso l'ho ucciso alla cieca ok ok 4 power andiamo a prendere anche il quinto cazzo dai 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 un colpo e lo prendiamo ok perfetto direi anche di accendere il coso qua ah ma quindi se uccide anche quel cosa mi uccide anche me io ora ho scoperto questa cosa qua peccato peccato io non lo sapevo questa cosa vabbè vabbè ne terrò conto ne terrò conto comunque sono arrivato terzo eh quindi mi conta la serie di vittorie quindi come se avessi fatto lo stesso più 10 coppe vabbè io direi di interrompere qua questa serie più 43 coppe ecco qua l'abbiamo fatta abbiamo recuperato ci abbiamo raggiunto anche l'obiettivo di 26.400 prossimo obiettivo 26.500 ma non danno un cazzo più gli obiettivi vabbè che cosa c'è qua di gratuito questa cosa qua che è inutile poi non c'è niente più ah quello quello cos'è qua 500 monete ok 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 perfetto qua prima dobbiamo pagare certo prima paghi e ti fotti poi eccolo questo è il brawler mamma mia questo qua è quello nuovo oddio raga niente i dollaroni sono spariti quello che ho visto quindi niente andiamo a riscattare tutte queste cose qua ci siamo quarto giorno epico attenzione mitico vediamo se c'è il leggendario no è mitico però andiamo ad aprire vaffanculo 200 punti di cazzo vabbè ci abbiamo ancora la ricompensa gratuita ma le andiamo a riscattare non ci serve auca qui cosa abbiamo da riscattare queste quattro cose qua vabbè andiamo a fare delle partite poi le riscattiamo allora vediamo qua cosa possiamo subito fare andiamo a recuperare questa cassa qua subito abbiamo chi ci attacca perchè sono due attenzione nooo si 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 attenzione attenzione prenditi power prenditi power non sparare a cazzo prenditi power ok perchè siamo rimasti già in tre squadre questa è una cosa molto positiva andiamo a spaccare questa cassa qua già che siamo allo scontro finale non è per niente male oh attenzione devo lanciargli sto cazzo di coso devo lanciargli sto cazzo di coso dove sarà mai eh buh eccolo dove vabbè dai l'abbiamo vinto star epica 500 punti doppi vabbè andiamo a cambiare personaggio perchè mi sono stancato andiamo a mettere questo che lo possiamo anche migliorare per ora va bene così abbiamo gli altri anche da migliorare questo qua che non mi ricordo manco come come personaggio però vabbè dovevo portare anche l'unicorno sono a livello 9 ok vabbè per ora va bene così anche perchè abbiamo finito le monete quindi non possiamo fare più niente niente cambiamo personaggio e mettiamo questo qua e mettiamo questo qua appunto e andiamo a vedere come come personaggio allora da quel che vedo ho un raggio di sparo molto lungo ah ma questo è quello che più tieni premuto e più danni fa ok se funziona così oh l'ho ucciso con un colpo madonna 5.000 di danno con ah se li prendevo cioè con un colpo fa 5.000 di danno sto coso siete venuti al massimo vabbè l'importante è aver vinto andiamo a spaccare casse 3.000 senza power up 3.000 porca troia mi sono fatto ammazzare mister palloncino fai la cosa giusta oddio oddio cazzo ho sbagliato mira che danno enorme ah ma va sull'acqua pure incredibile sto goal cazzo non era prevista questa cosa nooo qua o vinciamo o vinciamo non mi interessa niente tutti sti danni qua tutti sti danni qua 8 power oh 5.400 ucciso scontro finale abbiamo vinto senza nemmeno accorgersene questo è il bello e cazzo è porca troia porca troia porca di quella troia dai che gli manca un cazzo di colpo per morire oh l'ho ucciso alla cieca mamma mia mamma mia non è facile giocare con questo cosa se non lo sai usare ti fanno il culo cazzo se ne è scappato vabbè qua sei tanto vabbè è finita dai cazzo è allenato il compagno lo stesso è finito dai abbiamo vinto andiamo a fare belle figure anche qui dai dubito partiamo così ne dubito teniamoci sulle power e andiamo assieme di qua non l'ho preso ehm adesso si fa complicato niente da fare abbiamo perso meglio cambiare brawler in questi casi andiamo a prendere questo lo possiamo anche migliorare allora questo brawler già mi piace come spara ok tre colpi distrugge la cassa va bene cazzo già mi son fatto ammazzare dai che lo ammazzi dai che lo ammazzi dai che lo ammazzi dai un colpo un colpo un colpo ok ok scontro finale scontro finale eh non mi poteva aspettare un secondo no po' di unione ok l'ho ucciso senza power raggiunto guarda con questo cazzo c'è sta porco demonio ok finisci meno una squadra meno tutte le squadre volevo dire vabbè facciamo già lo scontro finale 10 power up e che cazzo hanno trovato tutto loro lì ok 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 non mi poteva 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 non mi poteva